Speriamo che l'anno nuovo e la Befana, che l'Epifania, che i Re Magi, che... no i Re Magi no, si sente che la Befana, che l'anno nuovo e Babbo Natale portino speranza, portino più amore, più salute, più soldi. Quanti di voi hanno mai sentito questo tipo di frase che di solito si sente in riferimento a Befana, Epifania, anno nuovo e Babbo Natale, cioè che portino qualcosa. La Befana, l'Epifania, l'anno nuovo soprattutto, non sono esseri viventi, quindi non è che portano qualcosa, siamo noi a portare qualcosa nell'anno facendo qualcosa. Quindi il messaggio dell'Epifania e dei Re Magi che portano i doni in realtà non è tanto di qualcosa che viene portato a noi che passivamente lo riceviamo, ma più che altro secondo me è lo spunto più utile rispetto alla storia dell'Epifania, al di là che tu creda o non creda, perché qualcuno oggi ha commentato al mio post dicendo sì ma se io non credo, a parte il fatto che se non credi in Dio comunque in qualcosa credi, cioè che credi che non esista un Dio, quindi comunque tutti crediamo in qualcosa. Sta di fatto che la differenza fa, la fa se quello in cui credi, ciò in cui credi ti porta a stare bene, ti porta della forza, ti porta della speranza, ti porta dell'energia, ti porta a rialzarti dalle difficoltà. Se quello in cui credi non ti porta nulla allora è inutile insomma. Quindi dipende dai benefici e da come ti senti nel momento in cui credi. Comunque al di là di questo il messaggio più utile della storia dell'Epifania è il viaggio che devono affrontare i Re Magi per arrivare alla loro meta, quindi seguendo la stella cometa, seguendo un viaggio molto difficile, molto magari molto lungo e quindi cosa ne ricaviamo? Che anche il nostro anno sarà un viaggio lungo e magari difficile. Il messaggio dei Re Magi più che aspettiamo dei doni, aspettiamo qualcosa che ci arriva dal cielo, qualche miracolo per far sì che l'anno sia migliore, che poi alla fine ti ritrovi al 31 dicembre dell'anno seguente che è tutto rimasto uguale se non peggio, è piuttosto che ricevere doni come affrontare questo viaggio? Perché senza arrendersi, senza mollare, ma il più delle volte noi arriviamo magari alla meta, ma come ci arriviamo alla meta? Magari logorati, magari avendo subito tanti soprusi o tante tante ingiustizie e quindi spesso è capitato anche a me di arrivare a fine anno, magari ci sono arrivato, magari ho conquistato qualche bella meta e qualche risultato, perché poi se fai un bilancio qualcosa di buono lo ottieni sempre alla fine di un anno, c'è sempre qualcosa di buono che almeno hai conquistato, solo che sono magari più quelle cose negative e quindi alla fine si generalizza e si perde di vista le cose buone che abbiamo fatto, però sta di fatto che tante volte si arriva a fine anno, alla fine di questo viaggio lungo e per certi versi difficile logorati, perché? Perché lo si è affrontato nello stesso modo, quindi senza magari coltivare i doni che ognuno di noi ha, quindi senza acquisire nuove competenze, senza migliorarsi, senza rinforzarsi, per imparare ad esempio a gestire meglio la propria energia, per non dover arrivare al 31 dicembre di quest'anno distrutti, oppure al 23 dicembre che non vedi l'ora che ci siano le feste di Natale, poi magari neanche ti godi le feste di Natale perché sei talmente stanco, oppure devi fare delle cose anche in famiglia che ti richiedono ulteriori energie e quindi alla fine non riesci a dare neanche la versione migliore di te stessa o di te stesso alle persone che ami, perché sei talmente stanca, stanco e stressato che non sei neanche più lucido e magari passi le feste a litigare, ad arrabbiarti o a discutere. Lo spunto che secondo me può esserci utile proprio per iniziare domani, chi domani inizia a lavorare, per chi già ha iniziato, che comunque inizia l'anno lavorativo, lo spunto utile a mio parere per te, così come lo è per me, è quello di pensare a come affrontare il viaggio, cioè non tanto alla meta, che tanto alla fine ci arriviamo tutti al 31 dicembre, a me non ci auguriamo di arrivare tutti, ma come arriviamo alla meta, quindi cosa facciamo durante il viaggio? Se ad esempio durante il viaggio trascorriamo dei momenti per noi, ci prendiamo cura di noi, non per dire perdo tempo ma per riuscire a impiegare il tempo in un modo più efficace, cioè come affronto quel viaggio? Logorandomi oppure coltivando il mio amor proprio, come anche scrivo nel libro, cioè il fatto di utilizzare l'amor proprio, cioè il volersi bene come strumento per arrivare alla nostra meta e per arrivarci anche bene in maniera molto più efficiente, non solo per essere efficaci, che vuol dire arrivo all'obiettivo, ma l'efficienza e arrivo all'obiettivo impiegando meno energie possibili, cioè ottenendo il massimo risultato con il minor dispendio di energie possibile. Quindi se questo viaggio di quest'anno lo vuoi intraprendere con delle competenze nuove, delle nuove sicurezze, con dei nuovi strumenti, delle nuove strategie che fanno la differenza rispetto agli altri, che attendono i doni dal cielo, attendono che passi la settimana, attendono che passi il mese per arrivare magari a quel ponte o a quelle festività, ecco se vuoi affrontarlo con nuovi strumenti, con più forza, con un bagaglio che ti permette non ti fa rallentare il viaggio, ma ti fa andare più veloce in questo viaggio, magari anche divertendoti, magari anche trascorrendolo con più serenità. E se vuoi acquisire questi strumenti affidandoti a me, magari come guida, quindi se hai capito quello che faccio, se mi segui da qualche tempo e ritieni che quello che insegno nei corsi, quello che insegno nelle aziende, quello che insegno nel corso di intelligenza positiva, possa esserti utili, fra l'altro c'è anche una promozione che scade fra qualche giorno e ti invito a farlo adesso perché domani iniziano tutte le incombenze, tutti i doveri, tutti i devo, tutti gli obblighi, tutte le cose da fare, magari arretrate e quindi alla fine non riesci più a pensare a te stesso, a te stesso. Quindi ovviamente per fare una scelta, a te la scelta, ci vuole la lucidità e magari in questo momento hai ancora la possibilità di essere lucida o lucido per capire cosa viene svolto in questo corso, leggerti le testimonianze, vedere le testimonianze di chi ha già partecipato e ottenuto risultati partecipando nelle passate edizioni, vedere i prezzi, la promozione e l'augurio per iniziare l'anno lavorativo se lo inizi domani o se lo è già iniziato è quello di pensare al viaggio non tanto alla meta finale che il più delle volte ti porta ad arrivarci logorato ma pensare a come affrontare questo viaggio, come, con quali strumenti, con quale atteggiamento, con quali stati d'animo, con quale lucidità riuscire ad affrontare questo viaggio quest'anno, con quali strumenti che fanno la differenza anche rispetto agli altri, quindi essere magari proprio una guida, quella stella cometa che seguono i re magi, essere un esempio per gli altri di come affrontare le difficoltà, di come affrontare l'anno piuttosto che essere magari un peso e seguire la coda di tutte quelle persone che non vedono l'ora che finisca l'anno. Bene, auguri, buona serata e saluti di denti! Grazie!